Ma io penso che sport e legalità sono due indirizzi che guardano di pari passo, anzi hanno bisogno l'una dell'altra. Perché lo sport ha bisogno di legalità per far valere quelle che sono le proprie regole, così come legalità ha bisogno dello sport per cercare di evitare devianze che possono capitare a quando si è ragazzo. Io penso che sono due punti di riferimento che bisogna guardare sempre. Grazie.